Via, venerdì 30 agosto, Varano del Melegari, io e Giacomino abbiamo fatto una... io sono io, io e Giacomino abbiamo fatto... Abbiamo fatto una mangiata di avventure, siamo venuti a fare le prove, ma ho mangiato un po' di salà. Vasco ha mangiato anche lui, adesso si sta occupando della pulizia delle vetture, delle moto, questa è la Yamaha R6 di Giacomino, che Vasco sta occupando molto bene, e la moto è poi invece Vasco non ha... Ha creato una storia del 70D, range della tua, e basta. Abbiamo fatto una giornata fresca, temperatura di 25-26 gradi centigradi, un po' sotto vento, non c'era tanto traffico, a dire il vero che era Zoi, chi può che era andarmi alla moto, perché che sveglia di... Giacomino è qua, che sta ridendo della grossa, io il mio abbigliamento è, se lascio un po' di... Scarpe e savate. Una scarpe, aspetta, una scarpe e una savate. Ecco, una vita da cani, adesso un attimo che mi devo trovare via anche le altre savate, un secondo, mettiamo il video qua. Grazie a tutti, grazie a tutti.